bassano lux vi aspetta nella nuova sede a 9 presso il centro stefani con tanti nuovi articoli dove il miglior rapporto è sempre qualità prezzo bassano lux ora a 9 si è spento all'ospedale di asiago il regista ermanno olmi maestro del cinema italiano aveva 86 anni a bassano fece scuola fondando ipotesi cinema asiago proclama per domani il lutto cittadino il dolore del sindaco rigoni stern abbiamo perso il cantore della nostra storia i funerali in forma strettamente privata un commissario per portare a termine il restauro del ponte vecchio le categorie economiche chiedono alla regione di intervenire la situazione dicono è inaccettabile rotatori attraversamenti stradali in sicurezza per una città a misura di ciclisti e pedoni al via lavori per 200 mila euro in quattro punti critici della viabilità volata finale per le candidature nei comuni al voto amarostica centrodestra diviso fra costa e marcon pronte due liste ma si tratta ancora per evitare la spaccatura calcio il bassano chiude il campionato all'ottava posto e incroce renate al primo turno playoff venerdì gara secca in brianza buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di bassano notizie lo avete sentito è morto ermanno olmi il regista 86 anni si è spento nell'ospedale di asiago addio ermanno olmi il regista si è spento nella notte all'ospedale di asiago dove era stato ricoverato tre giorni fa per l'aggravarsi della malattia che l'aveva minato da tempo non è stato possibile esaudire il suo desiderio di tornare per le ultime ore nella sua casa in val giardini i funerali per volere della famiglia si svolgeranno in forma strettamente privata 86 anni malato da tempo olmi è stato e rimarrà per sempre uno dei maestri del cinema italiano un regista artigiano di quelli che il cinema amava immaginarlo e farlo con le sue mani curandone in prima persona ogni dettaglio nato a bergamo il 24 luglio 1931 olmi si spostò a milano dove giovane e presto orfano dei genitori trovò il suo primo lavoro alla edison volta fu qui che gli mise in mano una cinepresa 16 mm per documentare l'attività della società e fu in quel momento che nacque un amore per il cinema destinato a durare per sempre olmi ha regalato al cinema italiano autentici capolavori l'albero degli zoccoli il suo film più noto che gli valsera palma d'oro a can nel 1978 torneranno i prati l'ultima fatica girato nei boschi dell'altopiano non gli faceva paura la sofferenza nella sua autobiografia l'apocalisse a un lieto fine ne parla così guai se la sofferenza venisse vissuta con un esito poi di sconforto e basta ecco se diamo la sofferenza l'opportunità di riscattarsi allora la sofferenza ha un senso una vita spesa per l'ottava arte il debutto nel 1959 con il tempo si è fermato girato sulla damello a quasi 3000 metri i recuperanti del 70 anche questo girato ad asiago lunga vita la signora nel 1987 il mestiere delle armi nel 2011 tantissimi riconoscimenti nella carriera di olmi la già citata palma d'oro due leoni d'oro a venezia nel 1988 per la leggenda del santo bevitore quella la carriera nel 2008 consegnato gli dall'amico celentano una serie infinita di nasi d'argento e davidi donatello a cui aggiungere lauree e onaleficenze nel set olmi faceva tutto attentissimo nella scelta dei suoi attori in più delle volte non professionisti come per la protagonista del posto la giovane loredana detto che poi divenne sua moglie e dal cui matrimonio nacque di figli andrea e fabio nel vicentino a inizio anni 80 fondò una scuola per giovani registi ipotesi cinema ma soprattutto qui si innamorò dell'altopiano dove trasferì famiglia e lavoro e nacque qui la sua grande amicizia con lo scrittore mario rigoni stern spentosi nel 2008 con cui spesso si perdeva nei boschi a chiacchierare e ci piace immaginare che da oggi possa essere di nuovo così e l'amministrazione comunale ha deciso di proclamare per domani il lutto cittadino intanto il sindaco ha detto ci ha lasciato il cantore del nostro territorio viene a mancare uno dei più illustri personaggi del nostro territorio la nostra città si stringe attorno ai suoi familiari con i più vivi sentimenti di cordoglio la notizia della scomparsa di quello che il sindaco ha definito il cantore della storia dell'altopiano lascia la città di asiago attonita silenziosa e la rende semi deserta il nostro sentimento di riconoscenza in questo momento di ricordo per quello che olmi ha saputo fare anche per evocare la nostra storia non si ha ancora notizia della data dei funerali del regista la famiglia si è chiusa nel più profondo silenzio ma il sindaco ha deciso per il lutto cittadino che si osserverà domani noi vogliamo rispettare la riservatezza della famiglia che è in linea con la grande umiltà e la grande sensibilità che ha da sempre contraddistinto l'uomo ermano olmi tra gli asiaghesi più legati al regista c'è l'amico agostino bonomo presidente regionale e provinciale di confartigianato con la scomparsa di olmi dice bonomo l'altopiano perde uno dei suoi personaggi più carismatici che ha saputo capire e raccontare le ferite della nostra montagna usava un linguaggio poetico privo di retorica che i solo dei grandi osserva chile variati sindaco di vicenza e presidente della provincia che aggiunge oggi il nostro territorio piange un vero maestro ma è il veneto tutto a prendere un eccezionale cantore della sua gente sottolinea il governatore luca zaia in lutto anche bassano dove olmi fondò la scuola ipotesi cinema il sindaco riccardo poleto la ricorda come una fucina di idee e di talenti che formò importanti allievi per questo esattamente 30 anni fa bassano insignia olmi del premio cultura massima onorificenza cittadina voltiamo pagina per parlare del grave incidente domestico accaduto a una bambina di un anno e mezzo di mussolente una porta infatti le sarebbe caduta addosso procurando le diverse fratture la piccola è stata ricoverata sabato all'ospedale di vicenza ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e chiedono un tavolo chiedono il commissariamento dei lavori sul ponte di bassano a farlo sono le categorie economiche componenti del tavolo di osservazione fino ad oggi aveva sempre tenuto un assetto vigile ma silenzioso sull'andamento dei lavori ora il tavolo delle categorie economiche rompe gli indugi e butta il cuore oltre l'ostacolo chiedendo un cambio di marcia la situazione oggi come oggi secondo noi può essere sbloccata solamente in maniera straordinaria visto e considerato che ci sarà sicuramente una causa visto e considerato che il comune non ne viene più fuori quindi non vogliamo aumentare ancora il danno di immagine alla città non vogliamo aumentare il danno di immagine alle nostre imprese quindi oggi come oggi chiediamo questa soluzione e la soluzione sta nella parola commissariamento questo è ciò che chiede il tavolo esprimendo rammarico davanti alla constatazione straziante che i lavori probabilmente rimarranno fermi ancora per troppo tempo il commissariamento del cantiere sarebbe utile anche all'amministrazione comunale secondo il rappresentante di confartigianato perché le permetterebbe di bypassare lo stallo burocratico e legale che si sta profilando in queste settimane ormai siamo penso alla barzelletta a livello nazionale quindi è ora di finirla chiediamo veramente un qualcosa di forte per poter uscire da questa situazione saranno interventi per 200 mila euro a rendere più sicuri per pedoni e ciclisti le strade del bassanese ricucire la rete delle ciclopiste mettere in sicurezza rotatori e intersezioni stradali potenziare i percorsi protetti per gli studenti gli obiettivi dell'agenda strategica per la mobilità sostenibile cominciano finalmente a tradursi in realtà il primo pacchetto di lavori sta partendo in questi giorni circa 200 mila euro di lavori che intervengono su alcuni punti strategici con l'obiettivo di mettere in sicurezza il più possibile le ciclabili verso il centro studi sono soprattutto le rotonde a far temere per l'incolumità dei ciclisti tempo un paio di mesi e due rotatorie lungo via Aldo Moro diventeranno più sicure quelle all'altezza degli incroci con via Santi Fortunato e Lazzaro e con via Levicenza vengono creati dei passaggi pedonali rialzati e delle corsie specifiche in sicurezza per le biciclette segnalate quindi un lavoro importante perché tra l'altro sono tutti passaggi protetti corsie riservate alle bici verranno ricavate anche in corrispondenza di semafori di Viale Venezia molto atteso il passaggio pedonale con semafora chiamata in Viale De Gasperi quartiere Merlo lo invoca da anni e anni è una prima serie di interventi poi continueremo nell'arco dell'anno il 10 giugno si tornerà al voto per le amministrative questi sono gli ultimi giorni anche per Marostica per definire lista i candidati Marostica come Vicenza aspettando di capire se andrà a finire come nel capoluogo con la riconciliazione finale dopo un estenuante braccio di ferro al momento però il centro-destra rimane spaccato con due aspiranti sindaci virtualmente in pista da una parte Maria Teresa Costa assessore a suo tempo della giunta a scettro sostenuta dal gruppo di minoranza uscente dall'altra Walter Franco Marcon presidente mandamentale degli artigiani appoggiato dalla Lega ogni mediazione finora è fallita e dentro sabato bisogna presentare le liste mi auguro che in extremis vinca il buonsenso con fila Marcon facciamo tutti un passo indietro e stringiamo un accordo dell'interesse dei cittadini il suo appello se così non sarà il 10 giugno saranno almeno quattro i candidati a sfidarsi nelle urne in corsa ci sono già l'ex senatore Giorgio Santini per il centro-sinistra e l'ex sindaca Marica Dallavalle con la sua civica uno scenario quanto mai frammentato preludio a una lotta incertissima all'ultimo voto Fatima La scuola sta finendo e un altro anno se ne va ma il gioca gioca divertimento a volontà Pizzate scolastiche a prezzi agevolati Per la pagina sportiva abbiamo il calcio con il Renate avversario del Bassano ai playoff Ancora tu? Ma non dovevamo rivederci più? C'è sempre il Renate nel destino del Bassano ancora loro sulla strada dei giallorossi Gli avversari del soccer team ai playoff saranno i lombardi L'appuntamento è per venerdì sera alle 20.30 a Meda nel cuore dell'Abrianza Due passi da quella Seveso purtroppo salita dalla ribalta 42 anni fa per una numbe tossica che devastò il territorio e cui i residui sono cementati tra l'altro in sicurezza proprio sotto il campo di gioco È gara secca con l'obbligo per la Virtus di vincere entro i 90 minuti Non ci saranno supplementari o rigori, quindi o Bassano sbanca oppure chiude qui la sua annata Col pareggio passa il Renate che ha gli stessi punti della formazione cittadina ma una migliore differenza reti negli sconti diretti Epilogo inatteso, Bassano ieri riposava, si è accomodato sul divano per vedere i risultati altrui e per oltre un'ora è rimasto sesto in classifica Avrebbe incrociato sempre il Renate ma il mercante e con due risultati su tre a disposizione per passare il turno, molto meglio Invece poi è apparso il Pordenone come rivale, ancora in casa e nel finale il pari del Renate in Friuli ha spinto proprio i Lombardi come oppositori in esterna Bassano da sesta a ottavo fregato in tromba Ma mister Colella ci crede, anche se favoriti ora sono gli altri Non faccio calcoli, dice, non bado alle assenze Mi fido dei miei e andiamo per vincere A lei così si fa, tirando a ribaltare il pronostico E anche per questa sera è davvero tutto Grazie ancora per l'attenzione e un felice proseguimento a tutti voi Bassano Lux vi aspetta nella nuova sede a 9 presso il Centro Stefani con tanti nuovi articoli dove il miglior rapporto è sempre qualità-prezzo Bassano Lux, ora a 9 Grazie a tutti